un ospite l'ospite che la prima volta che vedo con le cuffie il presidente Silvio Berlusconi la prima volta che la vedo con le cuffie buongiorno buongiorno, grazie di ospitarvi per me è veramente una novità e mi piace essere qui in questo ambiente che sprizza simpatia da tutti i poli vuole fare un programma da noi? mettiamomi alla prova lei si ricorda che è già stato da noi abbiamo fatto una bella chiacchierata credo 4-5 anni fa 4-5 anni fa, io sono vecchio e non ho memoria pensate che faccio ancora la corte alle ragazze ma non mi ricordo più per cosa questa non è male senta, allora immagino sia venuto per parlarci un po' della crisi del Milan o delle feste di Natale dei regali vuole parlare del suo programma politico? gli argomenti siete in casa vostra e ho il diritto di scegliere voi io sono qui e cercherò umilmente di darvi delle risposte soddisfacenti allora io ho una prima domanda perché lei sta scendendo in campo dopo 23 anni della prima volta presidente ma chi glielo fa fare? lei si rimette in gioco per l'ennesima volta ma veramente tosse per prendere tempo sì perché è una domanda importante perché è quella che si fanno tutti ma chi glielo fa fare? ah Silvio Berlusconi si è quello che sapevo anche io a questo punto no no le cose non stanno così me lo fa fare l'insegnamento ricevuto dai miei genitori ho sempre stampate nella mente le parole di mia madre quando 23 anni fa ormai scesi in politica lei mi disse dopo che avevamo discusso a lungo a una cena con tutti i miei manager con tutti i miei più cari amici e tutti mi avevano sconsigliato di farlo lei mi disse guarda io sono e resto contrario al fatto che tu ti occupi di politica sì ma se tu senti dentro di te così forte il dovere di farlo non saresti il figlio che tuo padre Dio abbiamo creduto di adoccare se non ti trovassi anche il coraggio di farlo ecco vede oggi io credo che l'Italia corra un pericolo forse più grave di quello di allora non esistono più certamente i post comunisti ci ha pensato Renzi a farli fuori ma esistono una forza politica che ha preso il peggio il peggio dell'idea della sinistra e cioè il pauperismo e il giustizialismo e a questo ha aggiunto una totale inesperienza e incapacità di amministrazione e di governo parlo naturalmente del Movimento 5 Stelle una forza costituita interamente da professionisti del nulla e che adesso sono diventati professionisti della politica perché si tratta di persone che non hanno mai fatto un altro lavoro in vita loro si fa riflettere il fatto che l'87% dei loro parlamentari prima di entrare in Parlamento non facessene pure la dichiarazione dei redditi e quindi per mantenere o conquistare un posto sicuro in Parlamento sarebbero disposti a fare qualunque cosa agli ordini di un vecchio comico e di un misterioso professionista della comunicazione che nessuno ha mai votato vede io in questi 23 anni ho ricevuto dagli italiani oltre 200 milioni di voti e nei confronti di tutti questi italiani sento il dovere di fare qualcosa perché il mio paese non cada nelle mani di questi irresponsabili che distruggerebbero il ceto medio a cui portano invidia e sotto i colpi di una tassazione insostenibile bloccherebbero le infrastrutture a quanto ci è preso proprio in questi giorni taglierebbero anche le pensioni appena dignitose ecco chi me lo fa fare ecco perché lo faccio direi che ne vale assolutamente la pena lei ha accennato alle tasse rispetto alla questione della dichiarazione mai fatta insomma lo dicevo un attimo fa dei rappresentanti del Movimento 5 Stelle e le tasse in effetti sono proprio al primo posto del suo programma che si snoda attraverso 6 punti lei dice appunto che se andrete al governo insomma eliminerete la tassa sulla successione sulle donazioni l'IREP agli imprese l'IMU agricola il cuneo fiscale in Italia è molto alto mediamente 10 punti percentuali sopra la media europea c'è sempre la solita domanda in questo caso cioè dove troverete le risorse sarà una cosa facile è una cosa possibile è fattibile sì non sarà una cosa facile ma sarà certamente una cosa fassibile vede con quello che gli italiani pagano di tasse avrebbero il diritto di avere una macchina pubblica in perfetta efficienza dei servizi di alta qualità anche un effettivo sostegno è più deboli e questo non succede per diversi motivi una ragione è che la macchina pubblica in Italia non viene come dire riorganizzata e razionalizzata da decenni mentre esiste una regola dell'ingegneria gestionale materia nella quale ho ricevuto anche una laurea e onoris causa secondo la quale ogni organizzazione complessa deve essere sottoposta a una riorganizzazione scientifica almeno ogni 10 anni e solo noi abbiamo la competenza per riorganizzare il sistema Italia non solo il governo ma anche la pubblica amministrazione ad ogni livello e lo faremo partendo proprio dai servizi ai quali i cittadini fanno un diretto riferimento sempre per la regola che ho citato una riorganizzazione fatta dopo 30 anni nella materia di ingegneria aziendale lo considerano un dogma aumenta la produttività se ripetola si fa dopo 30 anni avendo saltato il decimo anno e il vent'anno aumenta la produttività del 15% e si tagliano i costi addirittura del 35% ma poi c'è anche un'altra considerazione da fare nulla neanche una macchina pubblica efficiente giustificherebbe la tassazione che oggi gli italiani subiscono è un'idea vecchia della sinistra statalista già fallita nel secolo scorso quella che lo Stato abbia il diritto di sottrarre a ciascuno di noi una parte importante o addirittura la parte prevalente dei nostri guadagni perché sarebbe lo Stato stesso pensano e dicono a spenderli meglio e in modo più equo di come farebbe ognuno di noi un grande Stato burocratico e assistenzialista nella realtà soffoca l'economia libera la libertà economica dei cittadini e si rivela anche inefficiente è un modello che stanno progressivamente abbandonando anche i paesi del nord Europa che peraltro univano tasse molto alte a servizi molto buoni i nostri invece secondo lei sono come li trovo sono insufficienti i servizi trovo che tutte le persone si lamentino della inefficienza di quasi tutti i nostri servizi ed è una lamentazione molto molto diffusa quindi lei mi ha chiesto anche da dove noi traremo le risorse per questa riforma le traremo dalla Flactax l'impiosta piatta su famiglie e imprese che consentirà a tutti e soprattutto al cito medio di pagare molto meno che attenuerà senza cancellarla la progressività grazie all'esenzione sui pimi 12.000 euro di reddito che renderà molto più difficile e anche sconveniente l'evasione e l'elusione l'elusione ma ci vorrà un po' di tempo per introdurla presidente o è una cosa che si farà dopo le elezioni si farà insieme alla grande riforma del fisco che dovrà essere immediatamente fatta quando il governo entrerà in carica e dovrà essere abbinata anche a una grande riforma della giustizia nei nostri sei punti principali di programma meno tasse è al primo punto meno stato riforma della burocrazia al secondo punto più garanzie per ciascuno è al sesto punto la riforma della giustizia senta non è ancora chiaro quando si andrà a votare potrebbe essere a marzo però c'è un nuovo sistema elettorale che prevede comunque una serie di alleanze insomma a meno che uno poi non prenda una quantità tale di voti da poter governare da solo però appare abbastanza complicato vuole dire a noi visto che ha fatto dei nomi con chi con chi potrebbe allearsi e chi potrebbe essere nel caso nel caso della sua appunto ineleggibilità anche lì però insomma non si capisce bene se si è confermato o no però insomma ci dice il nome del candidato premier e il nome delle persone se lei presidente ci dice in questo programma 105 friends chi sarà il candidato premier secondo lei diventiamo famosi molto guardi io ho fatto dei nomi la fazia di persone che non avevo nemmeno contattato ma erano soltanto dei nomi per indicare la qualità delle persone l'autorevolezza delle persone che noi vogliamo trovare affinché siano da un lato presidenti del consiglio e dall'altro anche i ministri sì per quanto riguarda i ministri noi pensiamo a una maggioranza dentro il consiglio dei ministri di non politici di professione ma di protagonisti dell'impresa delle professioni dell'istruzione degli alti gradi del volontariato cioè gente che non ha fatto politica persone che non hanno assolutamente mai fatto politica cioè persone che vengono dal campo del lavoro che hanno dimostrato di sapere raggiungere dei risultati concreti quei traguardi anche ambiziosi che si sono posti nella loro professione a me piace chiamarli con i miei discepoli diciamo così un governo di cavalieri del lavoro ok ma ci fa dei nomi che hai in mente e non faccia i nostri due nomi noi purtroppo non no ma guardi non diciamo nomi perché oggi tutte le frecce andrebbero a colpire il personaggio che sta sotto il nome quindi fidatevi della capacità che io ho dimostrato nelle mie aziende ho assunto quasi anzi più di duemila manager dirigenti e quindi fidatevi della mia capacità di valutare le persone a proposito delle aziende presidente dobbiamo mandare in onda la pubblicità ecco facciamo una pausa quindi ci fermiamo un attimo ma ritorniamo tra poco a lei la pubblicità è sacra quindi mandatela subito in onda grazie a tra poco con toni e rossa 105 friends 105 friends 5 ciao qua i